salve a tutti da sanno mariani benvenuti in questo nuovo video oggi procederemo con la prima configurazione e primo avvio su wiko walks essenzialmente l'operazione è semplicissima richiede qualche passo che seguiremo insieme e ovviamente il primo step è quello di accendere il telefono si accenderà quando sentirete un feedback di vibrazione dopo aver premuto il pulsante di accensione che è posto sul lato destro caricherà il brand wiko susseguito dal modello in questo caso walks 4g e dopodiché apparirà una schermata come questa per impostare la lingua ovviamente noi impostiamo italiano per la scheda sim io non ho inserita una però a voi dovrebbe riconoscerla direttamente quindi salterete questo passaggio connettiamoci alla rete wifi adesso metterò la password in una maniera privata ecco qua vediamo che ci siamo quasi ok ho inserito la password adesso dovrebbe configurarlo automaticamente vediamo che riconosce la rete aspettiamo ovviamente anche qui qualche secondo perfetto il telefono è stato connesso correttamente alla rete wifi quindi richiede richiede il tempo necessario noi aspettiamo tanto non abbiamo fretta eccoci perfetto hai già un account google sì ovviamente inserite il vostro adesso inserisco il mio vediamo che anche qui qualche secondo sempre per una questione di privacy nascondimi i dati eccoci vediamo che anche qui sempre come dice il telefono qualche minuti però ovviamente poi ci mette sempre di meno in base appunto alla rete ecco qua ci siamo andiamo avanti andiamo avanti non impostiamo carte di credito il telefono ripristina per appunto ripristinare l'account ecco qua il mio nome avanti avanti fine vediamo ok perfetto il telefono è stato configurato correttamente pronto all'uso quindi adesso inizieranno una serie di suggerimenti che da appunto wiko che predispone wiko come questo di cliccare sul menu di schiacciare le varie applicazioni è tutto davvero molto semplice per questo video è tutto vi ricordo di seguirci nei vari focus dedicati a wiko walks ma soprattutto nei canali social sotto elencati un saluto da sanno moriani da forum vice.info